Grazie per l'invito. Faccio solo un piccolo chiarimento rispetto a quello che è stato stamattina. Stamattina si è parlato di un modello del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Milano, che è la mia università. No, ma non è solo così. Una precisazione. Vi racconto brevemente un percorso scientifico che mostra due tappe, una di un'applicazione tecnica-pratica e una invece di un'evoluzione scientifica ancora in atto, ma ancora da irrobustire prima di essere applicata sul territorio formalmente. Il punto di partenza era una serie di sfide scientifiche date all'inizio del 2000 su quelli che erano i metodi di valutazione della vulnerabilità. Si sentivano diverse esigenze, che erano quelle di usare i dati di monitoraggio che mano a mano diventavano sempre più disponibili, che sono la prima testimonianza del fatto che una falda sia più o meno contaminata. Di cercare di vedere se esistono procedure statistiche numeriche che potessero aiutare a definire meglio la comprensione dei processi che influenzano di vulnerabilità e di vedere se fosse possibile in questi metodi di introdurre direttamente le fonti di contaminazione all'interno dei calcoli. E non ultimo, estremamente importante, è ragionare su delle tecniche che permettessero di valutare la qualità finale delle mappe, che fino agli anni 2000 le mappe di vulnerabilità non venivano quasi mai validate. Usciva il prodotto e dire che quello era considerato quello buono. Allora abbiamo cominciato a lavorare parecchi anni fa prendendo in considerazione alcuni modelli statistici che poi sono di prima applicazione in campo medico, che sono sempre quelli che li sviluppano principalmente. Questi metodi statistici li abbiamo adattati a quello che è lo studio spaziale della vulnerabilità su un territorio. Su cosa si basano essenzialmente? Si basano sul partire da quella che è la qualità delle acque che viene misurate in una rete di monitoraggio da una parte e dall'altra parte considerare una serie di fattori che sono dei fattori naturali e antropici che rappresentano delle variabili che sono considerate indipendenti e che sono quelle variabili idrogeologiche, ripeto, o antropiche che si ritiene che possano condizionare la vulnerabilità dell'acquifero in una determinata area. Incrociando questi due dati con procedure statistiche diverse di cui accennerò, si riesce a determinare una mappa di vulnerabilità che chiaramente è sito specifica dell'area ed è anche specifica per il tipo di contaminante che si va a prendere in considerazione. Ci sono diversi vantaggi sull'applicazione di questi metodi, direi che principale è la flessibilità di applicazione di questi metodi, sia nella scelta dei predittori, nella flessibilità di aggiornamento, nella flessibilità di valutazione delle mappe e poi che tramite il paragone tra la qualità delle acque e i fattori che possono influenzare la qualità, ogni fattore che può influenzare la qualità attraverso il processo statistico viene valutato specificamente per il sito qual è la sua reale importanza, cioè quindi qual è il suo peso per influenzare la vulnerabilità in quella determinata area. Dati al monitoraggio di prime applicazioni, una cosa principale che sta alla base di questi metodi è che, dicevo, si parte dai dati di monitoraggio e il primo processo che viene fatto è questo. Sulla base dell'osservazione dei dati di frequenza, delle concentrazioni che vengono rilevate, si definisce un valore soglia che è un valore che individua due sottoclassi del campione di analisi. Questo valore soglia fissa due sottoclassi che sono tutti i pozzi che danno concentrazioni che sono inferiori al valore soglia e sono quelli che sono considerate pozzi non impattati o evidenze negative di contaminazione in una brutta maniera. Invece tutti quelli che hanno un valore superiore al valore soglia che è stato stabilito sulla base dell'analisi statistica elementare, che rappresentano il subset dei campioni di pozzi impattati, quindi quelli che si considerano evidenze di contaminazione. si compara spazialmente come sono distribuiti questi pozzi impattati, si ne prende o tutti o solo una parte e si compara spazialmente come sono distribuiti in rapporto a una serie di diversi variabili che vi dicevo, naturali e antropiche, quindi di pedrogeologico ma che possono includere, scusate, anche le fonti. E tramite procedure statistiche appunto si valuta qual è il grado di ricorrenza di associazione che si ha fra la presenza di questi pozzi impattati e la presenza delle variabili con i ruoli relativi ai valori. E da questo si determinano qual è le relazioni esistenti fra parametri e pozzi. Questa è la struttura di calcolo che vi ho appena descritto, reti di monitoraggio, pozzi impattati, selezione dei preditori, incrocio spaziale delle affinità, delle ricorrenze di combinazioni che esistono fra i due e definizione di una mappa finale. Tecniche possibili, regressione logistica che fornisce appunto lo sito specifico qual è l'influenza di ogni singola variabile nel determinare la vulnerabilità, è una forma diciamo evoluta di regressione lineare o metodi di analisi bayesiana già citati questa mattina dal Presidente. I risultati che si ottengono sono che ogni parametro, di ogni parametro, di ogni valore si ottiene qual è il peso che questo ha, quindi la forza che ha nel condizionare la vulnerabilità, ma si possono ottenere anche spazialmente quali sono ad esempio le combinazioni, non solo singoli parametri che influenzano la vulnerabilità, ma anche localmente quali sono le combinazioni di parametri che maggiormente sono associati a zone vulnerabili e le combinazioni di parametri che sono maggiormente associati a zone non vulnerabili, con i valori specifici della variabile che dati superamenti forniscono queste associazioni. Come dicevo esistono delle tecniche di validazione delle mappe che vengono fatti essenzialmente paragonando sulla base della mappa finale che viene ottenuta, riclassificata in un numero limitato di classi, perché su quello dobbiamo ragionare, si paragona come sono distribuiti essenzialmente i pozzi che non sono stati utilizzati per fare i calcoli, vedendo che ci siano delle ricorrenze, ad esempio che ovviamente ci sia un decremento dei pozzi non impattati verso le classi di vulnerabilità più basse, per dire, o che la concentrazione media aumenti all'aumentare la classe di vulnerabilità. Primo percorso che si conclude con l'applicazione allo studio che si citava stamattina per la regione Lombardia, previttorie e risultati che sono stati ottenuti. Mi premeva però a fare questi due minuti per introdurre proprio quello che è la parte scientifica che stiamo sviluppando in questo momento, che parte da questo presupposto. Si è accennato nel pomeriggio di tendenze, ricordiamoci che la direttiva Agua e Sotterranea nel 2006 e recepita nel 2009 in Italia dice che la qualità delle acque ormai va valutata non solo in funzione dell'ultimo dato, ma anche della tendenza che è in atto. E allora ci siamo chiesti, possiamo utilizzare questa tecnica per provare a vedere se riusciamo a introdurre la variabile tempo all'interno della vulnerabilità? E ci stiamo provando e per adesso i risultati sono abbastanza incoraggianti. Come facciamo? Invece che ragionare sul singolo valore di nitrati ottenuti nel pozzi, prendiamo la serie storica, questa è una serie 2000-2009 e semplicemente per ogni pozzo valutiamo la tendenza, otterremo due categorie, grosse categorie, pozzi che mostrano la tendenza all'aumento, pozzi che mostrano la tendenza alla diminuzione della vulnerabilità. Questi diventano le nostre evidenze positive o negative di contaminazione. Le mettiamo qual è il problema grosso? Che ragionando sul termine tempo dobbiamo selezionare anche delle variabili che nello stesso intervallo di tempo in cui abbiamo accertato i trend devono darci come sia variato un certo fattore all'interno dell'aria. E allora cosa succede? I dati geologici possono ragionevolmente ritenerli costanti perché la condicibilità idraulica della zona vadosa e velocità della falda e la soggiacenza cambia un po' ma non molto. Quello che cambierà sicuramente sarà la distribuzione delle fonti. Fonti civili o agricolo zootecnico? Per le fonti civili abbiamo avuto la fortuna di accedere a un database praticamente unico sviluppato da NASA che ha una copertura mondiale continua nel tempo dal 2000 al 2009 e che restituisce in pratica a scala del singolo chilometro quadro un valore che è correlato al grado di urbanizzazione dell'aria e quindi avendo i dati in serie è possibile stimare quali sono le aree all'interno di una zona di studio dove sta incrementando o è rimasta stabile l'urbanizzazione e quindi abbiamo anche qui un trend, un trend che possiamo correlare con il trend dei nitrati e chiaramente ragioniamo anche su, nello stesso intervallo di tempo, qual è stata la variazione delle altre fonti tipo quella di rieprizziotecnici. Combiniamo il tutto e una mappa la otteniamo, validata con tutti i soliti processi che avete visto prima. Questo è un percorso scientifico in atto, è chiaramente pubblicato, anzi in stampa, ancora deve robustire per un'applicazione reale su un caso pratico, però molto promettente. Concludo, più che concludere, apro per il futuro con delle parole chiave che sono quelle che io, quattro che io ritengo fondamentali per i prossimi sviluppi applicativi e scientifici della vulnerabilità. Tre sono stati già ampiamente introdotti questa mattina dalla Presidente, l'importanza della rete di monitoraggio, dell'analisi spaziale e dei dati satellitari, io ci aggiungo quella della variabile tempo che è quella più incovente. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.